...dalla linea cazzo, ferma in tutte le stazioni e c'è tutto un po' cavale. Attenzione, invitiamola a sostare un po' i percorsi, tanti li dedicati al passaggio di persone con disabilità a visita. Attenzione, rispettiamo il distanziamento sociale evitando assembramenti. Usiamo i percorsi individuati che seguiamo le indicazioni della segnaletica, grazie per la collaborazione. Attenzione, prima di entrare in treno, aggiungiamo l'uscita dei passaggieri per rispettare il distanziamento sociale, grazie per la collaborazione. Attenzione, adesiamo che in pregata velocità potranno spire ritardi fino a 10 minuti a seguito dei valori di manutenzione straordinarie. Attenzione, per seguito di controllo, raccomandiamo di presentarsi ai binari di proportuno anticipo rispetto all'urario di partenza del treno. Attenzione, adesiamo che dal 14.9 di Turino sarà interessata l'amore di manutenzione straordinaria che comporteranno modifiche al servizio. Informazioni sul sito www.treditalia.com o il numero verde 889-20-21 Grazie per la visione!